Quelli che state per vedere sono tre hack spaventosissimi che non dovete fare alle tre di notte Mi raccomando, comprate il mio fumetto che trovate in libreria, ma soprattutto su Amazon Link in descrizione, perché tutti quanti i frz ce l'hanno In questo momento sono le tre di notte Appunto c'ho la luce che mi vi arriva solamente dal computer Perché vi farò andare a vedere tre hack assurdi che ho trovato su TikTok Che si possono utilizzare solamente alle tre di notte E tu credi i fantasmi? Scrivimelo qua sotto nei commenti che ti lascia il cuore per la risposta che mi dai Quindi mi raccomando prestate bene attenzione perché servirà, servirà davvero un sacco Iniziamo dal primo Bisogna andare in questo punto dove c'è la barca E praticamente bisogna scrivere due volte, anzi no, tre volte I'm alone, quindi sono solo E poi hello come see me Poi dobbiamo spegnere tutte le luci e dobbiamo accendere il fuoco E dopodiché, sì, dobbiamo spegnere tutte le luci, anche di sotto E poi dobbiamo baggarci all'interno della nave e dovrebbe comparire un mostro del genere Non so se può funzionare Voi che dite? Io sono molto curioso, andiamo subito a vedere Nonostante magari non è notte anche su Roblox, anche perché sta per arrivare la notte Quindi è ottimo così, perfetto Se vuoi che questa prima hack funzioni ti invito a lasciare like all'interno di questo video se vuoi vederne altre Perché sono davvero uniche e speciali Arriviamo qua sopra Adesso quello che bisogna fare, quindi Non so se funziona, cioè sarà una cavolata Ma proviamoci comunque Dobbiamo spegnere tutte le luci Ah giusto, mi sono scordato il primo La prima cosa che bisogna fare Bisogna scrivere I am alone, I am alone, I am alone per tre volte di fila Scusatemi, sono uno stupido Quindi I am alone I am alone I am alone Poi come si mi Fatto, perfetto Adesso andiamo dritti verso la nave Sono davvero le tre di notte comunque, cioè veramente Proprio Quindi lasciate like solamente per il fatto che sto registrando le tre di notte Ok Adesso quello che bisogna fare è spegnere tutte le luci Oh mio dio fa ancora più paura Guardate, anche qua è notte Sembra come una cosa fatta apposta Ok, adesso Devo andare ad accendere il fuoco Il fire pit Ecco questo qua Perfetto Attivato E poi avevo visto che si era buggato in questo punto Qua In teoria Ma davvero posso Non ci voglio credere Sono sotto la nave Oddio E quindi dovrebbe comparire in teoria Ma non vedo niente Io credo che devo mettermi una torcia per forza Perché non vedo nulla altrimenti È quello Oddio Oddio Oh mio dio, mio dio, mio dio, mio dio Funziona davvero Funziona davvero Era lì È lì Devo scappare Devo scappare Devo scappare Scappa Scappa Oh mio dio Funziona Aspetta Devo scrivere bye per farlo andare via Avevo letto Devo scrivere subito Bye ragazzi Era lì sotto Aspetta ma se vado di sotto lo trovo Dove lo trovo? No, 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 no Non voglio andare di sotto per nulla Ok, ok, ok Devo scrivere bye Devo scrivere bye Bye Vediamo se sei andato Vado a vedere Ok, ok Vediamo, proviamo Vediamo se c'è Ok, se ne è andato Se ne è andato davvero Se ne è andato davvero Ha funzionato Ha funzionato Ok Assurdo Ragazzi, provate Ditemi se funziona anche a voi Questa hack Alle tre di notte Quindi è molto complicato Però se ci provate Però se ci provate Funziona È incredibile Detto questo Andiamo al secondo hack Ok, allora Quindi quello che bisogna fare Come ci fa vedere qua È andare in questa zona a caso credo Prendere una casa In quel modo Ah, e praticamente dobbiamo comprare Una cosa Che ci serve Per attivare Delle particelle Tipo la disaster house Qualcosa che ci serve Che ci serve comprare Proviamo a vedere se funziona Non lo so Io sono molto scettico Come al solito Però dopo che accadono Ste cose Credo che Creda tutto ormai Allora Proviamo Andiamo Io vado nella stessa Entrica zona in cui Era andato lui Che se non so Io era il 17 Ok Ok Quello che bisogna fare Quindi qua È comprare una casa Che non me la fa comprare Ah, perché avevo questo in mano Ok Dobbiamo comprare Precisamente questa casa qua Quindi è una casa premium Purtroppo Ok Eh, vabbè Aspettiamo che costruisce Come al solito Ok Ok Abbiamo fatto? Perfetto Adesso quello che bisogna fare È comprare qua Il disaster pack Che È permanente Si Spendiamoli questi robux Mi pare giusto Farlo per il video È per voi ragazzi Quindi Spendiamoli Ok Fatto Adesso in teoria Posso utilizzare Questa cosa E Fatemelo andare a vedere Un attimo meglio Ragazzi Che non l'avevo visto Molto bene Allora Devo comprare Ok Quella casa lì Diaster pack Wind Ghost E bugs Eh Dovremmo In teoria Trovare un fantasma In giro Ma Va bene Ok Secondo me L'hanno fixata Questa cosa Wind Fantasma E bugs È andato Oddio Guardate Che schifo Oh mamma mia Non ci credo Quindi dovremmo Tipo trovare un fantasma A caso per casa Adesso Non credo che funzioni Eh No Non c'è niente Io non lo vedo Il fantasma Voi lo vedete Oh È lì È lì Oddio Funziona davvero Il fantasma in giro Ci si trova Incredibile No vabbè Ma è ovunque Oppure tipo Oddio Aspetta Fatemi andare a vedere A controllare Ma è fake Questo fantasma Andiamo a vedere È incredibile Questa cosa Funziona davvero Andiamo a vedere Anche qua sotto Magari se Qua sotto Pure Lo vedete Io non lo vedo più Io non lo vedo più Eh Facciamo una cosa Andiamo a vedere Con la telecamera Forse posso vedere Con la telecamera Ecco qua No 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 Oh mio dio L'avete visto Era lì Era lì Era il tizio Quello con la bocca gigante E non era il fantasma Quello lì Era quello di prima Quindi i glitchi sono collegate Fatemi capire I glitchi sono collegati Fatemi vedere Se è ancora lì dentro Non c'è Sei andato No 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 Fatemi disattivare questa cosa Che mi sto spaventando a morte Mi sto spaventando a morte Specialmente perché C'è un fantasma in giro Ci sono due fantasmi in giro Che è quel tizio di Guardate lì Oddio No 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 Ragazzi ragazzi Tolgo subito il disturbo Mi dispiace ma tolgo assolutamente la nebbia No 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 Questo qua lo tolgo Questo qua lo tolgo No via 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 Riesco a cliccare Si è buggato Si è buggato Non ci credo Ok ragazzi Ho tolto tutto E in teoria Non dovrebbero esserci più problemi Guardate Cioè Non vedo più nessuno Quindi In teoria Dovremmo stare freschi Forse Spero Onestamente Questa cosa è fatta Con un ganglion in questa casa E' veramente pauroso Adesso Andiamo a fare Il terzo E ultimo arc Tutto bene Vediamo cosa fa adesso Nel prossimo arc Allora Quello che bisogna fare È Come to lake Use small Got to f2 Quindi ok Dobbiamo essere piccolissimi Dobbiamo metterci Con la Canna da pesca Possiamo fare finta Che sia un fantasma Che stia pescando In mezzo al lago Dico questa cosa Proviamoci Vediamo se funziona Secondo me Però Anzi Questa qua Questa qua è sicuro che va Anzi Secondo me Da me è quello più Più probabile Dai Perché dai Cacchio È probabilissimo Vediamo un attimo Allora La canna da pesca Intanto dovrei prenderla Da qualche parte Dove dovrebbe essere Allora Adesso Diventiamo piccolissimi In questo modo Ok E dobbiamo metterci Le moto di Art Ok Quindi tipo feriti E in teoria Vediamo un attimo Oddio guardate Sembra che Tipo Veramente c'è qualcuno Che stia pescando Come faccio a pescare Prisamente Ah Oh Come Sto pescando È giusto Ah Posso aumentare La velocità Ma che figata Però che posso Cioè faccio finta Di pescare Da invisibile Va bene Molto carino Come cosa Però Non è nulla di che Comunque ragazzi Questo è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto E noi ci becchiamo In un prossimo E nuovissimo Video Cosa cacchio è quello Era qua sempre Non era Non era per nulla Al mondo lì Via 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 Non ci credo ancora 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 che mi sta dietro Potete mettere Il normale Ok No ragazzi Che paura Che paura Anche se ho scritto B non Vai non c'è Non s'era andata Ancora quel tizio Oh mio dio Oh mio dio Ok va bene Ci vediamo Ci vediamo in altro video Questo server è maledetto Comunque Ormai è maledetto Oh mio dio No, 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 no.